Buonasera, buonasera ai web ascoltatori di Liberi.tv, la conseta rubrica di Marco Marchese che vi sta parlando, spazio Società Libera, però stasera abbiamo un interlocutore diverso, di solito i nostri web ascoltatori sono abituati a vedere il direttore di Società Libera, Vincenzo Olita, che invece stasera non c'è perché abbiamo come ospite, con il nostro piacere, Andrea Bitetto del comitato direttivo di Società Libera, buonasera e benvenuto Andrea. E buonasera a voi e a tutti i nostri spettatori, che purtroppo stasera non riusciranno a vedermi, non perdono un granché al caso di problemi tecnici per la videoconferenza. Comunque qualcosa in movimento riescono a vederlo, sono ormai abituati al mio faccione, si dovranno accontentare di questo, poi magari la prossima volta riusciremo a ripristinare il video. Abbiamo purtroppo soltanto 30 minuti, come di consueto del resto, con tante cose da dire. Andrea, la prima domanda che ti voglio fare, è tu la prima volta che vieni ospite nella nostra trasmissione, ti ringraziamo per la tua disponibilità. Allora, Società Libera, come ti trovi in questa associazione, come sei approdato in questa associazione? Parlaci di Società Libera, perché noi lo facciamo sempre in questa trasmissione e poi dopo affronteremo un altro paio di argomenti. Come mi trovo? A casa mia sostanzialmente, perché io seguivo Società Libera da alcuni anni, come interessato lettore sia dei rapporti che venivano periodicamente pubblicati sullo stato di liberalizzazione in Italia, sia ovviamente con la connessione alle periodiche newsletter di Società Libera, apprezzando moltissimo la qualità e i contributi che venivano offerti ai lettori. Mi sono avvicinato su invito di Vincenzo Lita, che ringrazio ovviamente per la fiducia che ho dovuto riporre in me, nel tentativo anche un po' di, non dico di rinnovare, ma di cercare di rinnovare lo slancio di Società Libera, che ha un obiettivo secondo me molto ambizioso e per questo meritevole di essere appoggiato, che è quello di introdurre un liberalismo empirico, un imperialismo delle azioni più che non delle dichiarazioni, che è una cosa di cui si avverte molto il bisogno quest'oggi, in particolare quest'oggi dove il significato dei termini della politica ha perso moltissimo del suo peso e moltissima della sua incapacità identificativa. Lasciamo perdere poi i fatti di cronaca più recenti, poi Società Libera per fortuna si occupa poco di politica partitica e si occupa in realtà di battaglie di idee. Se poi vogliamo dare una connotazione icastica alla mia partecipazione in Società Libera, Vincenzo Olita mi ha ospitato la prima volta nella sede romana di Società Libera, dove ho trovato a Pese dei Pareti una ideale galleria di figure tipiche di un certo liberalismo, del liberalismo classico, da Karl Menger a Karl Popper a Friedrich Hayek ed è ovviamente quello è stato per me l'immediato, l'immagine tangibile del fatto che mi trovassi a casa mia dal punto di vista intellettuale, perché a quella tradizione, all'individualismo metodologico e a quel modo di concepire il liberalismo, mi sento da sempre molto vicino. Bene, Società Libera è sempre impegnata nell'arco di tutto l'anno con tutta una serie di attività di Daci, possiamo ricordare la pubblicazione del rapporto sulle liberalizzazioni in Italia. Per andare da diversi anni ormai è arrivata, se non ricordo male, la sesta edizione, la marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi che si svolge a Roma e la marcia internazionale proprio perché negli ultimi anni e in contemporanea, generalmente nel mese di ottobre viene svolta anche in altri paesi europei. L'edizione di quest'anno ha toccato Parigi, Berdino, Bruxelles e poi dopo c'è il premio internazionale della libertà che si svolge tutti gli anni e poi ci sono anche tutta una serie di attività, di convegnistica molto interessante, mi piace ricordare che nell'ultimo anno ha organizzato a Salerno e a Firenze due importanti convegni sulla criminalità, Stato e criminalità e poi criminalità ed enti locali e adesso c'è un appuntamento importante, da molte settimane siete impegnati in Società Libera ad organizzare questo evento che si svolgerà a Roma il primo marzo e che riguarderà proprio i temi liberali in Italia, ce ne vuoi parlare? Molto volentieri, in realtà l'idea nasce come sempre da Vincenzo Lita che ha proposto di ospitare come Società Libera un dibattito tra organizzazioni liberali, dichiaratamente tali, ovviamente correntemente tali, per cercare di affrontare una serie di tematiche, prescindendo però dall'attualità politica o meglio soprattutto dal dibattito sostanzialmente preelettorale che già ai primi di marzo credo sarà quasi montante, con riferimento ovviamente alle imminenti scadenze per le elezioni del rinnovo del vero Parlamento, infatti una delle regole di ingaggio degli ospiti sarà proprio quella di evitare di discutere di posizionamenti piuttosto che di rivendicazioni politico-elettorali, mentre ovviamente vorremmo affrontare in maniera coerente rispetto ai presupposti della nostra visione del mondo una serie di temi che secondo noi sono fortemente qualificanti un approccio liberale. Il titolo del convegno è la passione per la libertà, è un titolo molto suggestivo, molto evocativo ovviamente, ma a fronte di questa immagine c'è anche una sostanza molto concreta perché vogliamo affrontare alcuni dei temi tipici della riflessione liberale, tra i quali ovviamente alcune riforme che sono le riforme istituzionali innanzitutto, l'opportunità e necessità di portare mano alla Costituzione nelle parti soprattutto relative al funzionamento istituzionale, quindi la seconda parte della Costituzione che oggi dimostra, non dico segni di logoramento, dimostra di essere stata pensata per una realtà politica e partitica profondamente diversa da quella che è oggi l'Italia nel bene e nel male, più nel male che nel bene, si è detto di passata. Oltre a questo ovviamente una serie di temi più specifici, si discuterà dell'opportunità o necessità di rimeditare l'istituto esempio della prescrizione in materia penale evidentemente, perché la lungaggine dei processi penali in Italia spesso impedisce di ottenere un accertamento di responsabilità, anche quando responsabilità giuridicamente non vale il sole, quindi questo è anche un diritto ovviamente dell'imputato e dell'indagato, è vero che oggi l'imputato in un processo penale può rinunziare alla prescrizione, però la volontà è quella di garantire il massimo accesso possibile all'accertamento giudiziario quando questo è necessario. Oltre a questo si tratterà di discutere anche l'opportunità di rimeditare il ruolo delle autorità indipendenti che sono state viste come uno strumento soprattutto a cavaliere tra anni 80 e 90 per cercare di garantire un ruolo di regolatore e di arbitro imparziale da parte della pubblica amministrazione in una serie di attività che proprio in quel periodo venivano abbandonate dallo Stato imprenditore e quindi vedevano lo Stato trasformarsi in Stato regolatore ed arbitro e questo ovviamente però dovrà essere valutato anche all'interno dei rapporti con il diritto amministrativo. Insomma una serie di temi che secondo noi possono essere sia sul versante istituzionale che sul versante delle riforme economiche o politico-economiche possono essere sicuramente di grandissima attualità e che consentiranno quindi di far vedere che il mondo liberale per quanto variegato, per quanto colpevolmente frammentato, è capace di elaborare contenuti, proposte molto specifiche, molto concrete, molto tecniche, dando un po' se vogliamo continuità a quell'opera già meritoria che facciamo con i rapporti sulla liberalizzazione. L'anno scorso ho licenziato per la prima volta il rapporto sullo Stato della giustizia in Italia, che è uno Stato piuttosto catatonico, diciamo così, per non dire una volta anche un po' imbarazzante, però questa è invece una sede in cui si potrà discutere da una prospettiva liberale e speriamo che ci sia una partecipazione concreta e effettiva da parte dei soggetti interlocutori che abbiamo individuato sulla base della loro rispettata coerenza culturale liberale. Ha introdotto un elemento che è sicuramente interessante, questa manifestazione del primo di marzo serve anche un po' come una sorta di prova tecnica di aggregazione, forse anche un tentativo di aggregare questa frammentazione, ha appena introdotto questo argomento, la frammentazione dei liberali. Il movimento dei liberali in Italia come sta messo? Dove stanno i liberali in questo momento e che cosa stanno facendo? Devo essere sincero, da liberale non anziano d'età, perché ho 38 anni, ma anziano maturo di convinzioni, perché sono liberale da quando sono capace di intendere i voleri, anzi un po' prima dal punto di vista giuridico, liberali ce ne sono molti, ci sono molti liberali consapevoli e molti liberali inconsapevoli, oggi credo che il luogo in cui è più facile trovare i liberali purtroppo è l'ambito privato, cioè molti liberali sono passati a una posizione di sostanziali osservatori della vita politica dal 1993-94 in poi, alcuni hanno creduto inizialmente nella possibilità di una rivoluzione liberale, forse sovrastimando le capacità effettivamente riformatrici di chi di questa rivoluzione liberale si era fatto novello interprete, molti altri hanno preferito semplicemente ritirarsi a vita privata e hanno partecipato alla vita pubblica solo testimoniando la propria coerenza, ma credo in ambiti che non sono di immediata rilevanza politica, c'è da dire che tra l'altro nella cosiddetta prima repubblica ai liberali spesse volte vennero riservati i ruoli più di tecnocrazia che non di governo politico vero e proprio, i liberali hanno sempre avuto una consistenza politica piuttosto ridotta, che era però inversamente proporzionale al peso e l'autorevolezza che la cultura liberale ha avuto soprattutto nella sfera di quella che Donato Minichella chiamava la Costituzione economico-materiale della Repubblica, perché se noi pensiamo ai governatori della Banca d'Italia, dal primo della Repubblica cioè Luigi Einaudi, allo stesso Minichella, allo stesso Guido Carli, allo stesso Paolo Baffi, per certi versi anche Carlo Azzelio Ciampi, Mario Draghi, sono tutti uomini di profonda cultura liberale e non solo, in moltissimi altri settori, la tecnocrazia di formazione liberale ha dato contributi altissimi nel mondo del diritto, lo dico per esperienza personale, insomma questa è stata la partecipazione nella prima Repubblica, nella seconda Repubblica si è passati dall'iniziale infatuazioni, si è passati più a un ruolo di critica, il liberalismo è presentissimo nelle opinioni degli opinion makers, sulle colonne dei giornali c'è molto liberalismo, nelle pagine culturali ce n'è troppo e manca oggi un liberalismo politico, quel tentativo credo che in altre sedi, cioè a Bruxelles per dire la Chiara, e oggi in realtà si può anche parlare di questo in vista delle prossime elezioni europee, credo che l'Alleanza dei liberali democratici voglia avere una rappresentanza o favorire una rappresentanza di un gruppo italiano, ovviamente questo dipenderà dalla capacità dei liberali di organizzarsi, che non è mai scontata e dalla possibilità di individuare dei candidati che siano effettivamente innovativi, coerenti nella loro prospettiva e ne speriamo anche nel consenso che magari l'elettorato vorrà dare a questa che è in realtà una voce essenziale nel dibattito politico europeo che solo in Italia purtroppo è relegata alle colonne dei giornali o dei settimanali o delle nostre attività di indirizzo culturale. Con questo tu stai dicendo che in questo momento non ci sono le condizioni in Italia per poter aspirare ad una rivoluzione liberale? Diciamo che l'Italia è un paese dove la rivoluzione liberale è difficile che riesca ad atticchire per diverse ragioni, perché in realtà la rivoluzione liberale presuppone che cosa? Un ribaltamento dei rapporti tra privato e pubblico, noi abbiamo assistito a una stagione, quella delle cosiddette privatizzazioni, che è stata una stagione dove le privatizzazioni sono state tentate per necessità e non per convinzione, cioè più perché era doveroso cercare di mettere a frutto quel patrimonio e soprattutto per ridurre il debito pubblico quelle che erano imprese di Stato, tant'è che infatti a questo non aveva fatto adeguato corredo una disciplina in materia di antitrust e quindi non solo di privatizzazione della proprietà, ma anche di liberalizzazione del mercato e di politica di concentrazione adeguata rispetto a quegli obiettivi, tant'è che infatti sono trasformati i monopoli pubblici e i monopoli privati con tutte le conseguenze e con tutti i difetti che i monopoli privati hanno sempre avuto, la lotta ai monopoli di Enaudiana Memoria ne era un evidente sentinella che però è stata sostanzialmente inascoltata. Se pensiamo un po' all'essenza del liberalismo, dove si deve fermare lo Stato? Allora, mettiamola così, di liberalismo si parla molto ma spesso in maniera parziaria, cioè il liberalismo è fondato secondo me personalmente su tre pilastri, esiste il liberalismo economico e esiste il liberalismo in materia di diritti civili, libertà civile e libertà politiche. Spesso noi abbiamo assistito a proposte di liberalismo che erano evidentemente monche, un malinteso liberalismo economico più dichiarato che praticato e spesso una rivendicazione di libertà in materie civili e politiche che sono sacrosante e che nessun buon liberale negherebbe mai. Faccio un esempio, se vogliamo anche riscendere nel concreto, il riconoscimento delle unioni omosessuali, chiamiamole come vogliamo, o di persone dello stesso sesso, è un diritto sacrosante in una società che prende atto della realtà e non vuole mettere le braghe al mondo, questo è l'approccio liberale. La necessità di rimettere mano agli istituti della separazione e del divorzio, non ha senso chiedere tre anni di separazione a due persone che hanno deciso, con i costi personali che questo comporta, di interrompere la propria convivenza. Le scelte penultime o meglio le scelte di fronte all'initabilità della morte e alla sofferenza sono scelte che devono essere lasciate alla coscienza individuale. A fronte di questo però si è dimenticato che il liberalismo, se deve essere una prassi politica, deve essere l'uno e l'altro, non ci può essere un liberalismo monco del versante economico che è essenziale perché in realtà nessun liberale o meglio nessun liberista coerente negherebbe mai quello che è il presupposto del liberismo economico, che non è un presupposto economico, ma è un presupposto morale. I più grandi liberali e liberisti come Inaudi e Adam Smith sono stati infatti grandi moralisti, Adam Smith ha scritto prima la teoria dei sentimenti morali e poi la ricchezza delle nazioni, lo stesso Inaudi in tutte le sue riflessioni ha sempre presente il dato morale, il liberismo di Inaudi e nelle parole di Inaudi è proprio questo, evitare che ci siano approfittatori o gente che vive sulle spalle degli altri, questo è il messaggio einaudiano. Questo spesso viene frainteso e c'è una specie di fantoccio che vaga, è quello del liberalismo del tutto elecito, dove ognuno fa come gli pare, che però è una caricatura gradevole quando resta caricatura, ma che da un punto di vista politico è sostanzialmente insignificante. E lo Stato come centro regolatore fin dove si può spingere secondo questa cultura? Sicuramente in Italia sono lontani. Non è che per un liberale e liberista lo Stato non abbia un ruolo da compiere, la differenza qual è? Che per un liberale e liberista lo Stato non deve porre obiettivi, perché il liberale è profondamente ignorante e sa benissimo che solo da questa consapevolezza della propria ignoranza una società aperta trae i massimi benefici. E quindi lo Stato per essere un buono Stato in una prospettiva liberale deve porre regole generali e non prefissarsi obiettivi. Le politiche industriali, uno Stato che sceglie che cosa un paese deve produrre, è l'esatto contrario di quello che un liberale può e deve ragionevolmente sostenere. Dopodiché invece una disciplina seria in materia di concentrazioni, quando questo è necessario, è un intervento che qualsiasi liberale chiede a uno Stato che voglia essere sufficientemente autorevole. Però appunto per far questo è necessario rimeditare il ruolo dello Stato e per questo credo che serva una riflessione un po' più approfondita di quanto finora non sia stata condotta. Mentre noi tendiamo a rivendicare allo Stato una serie di facoltà o di poteri di intervento che superano questo test, il test liberale che non assegna allo Stato l'obiettivo di fissare dei fini, ma la necessità di fissare solo delle regole generali per tutti. Sconfinando un po' nel campo economico, più squisitamente nel ruolo che gioca nella nostra società le banche. Il pensiero liberale come si pone con queste spinte che vengono generalmente dal basso, queste richieste molto forti da parte dei cittadini di separare quello che sono le banche d'affari dalla banca tradizionale? Questo è un tema molto interessante e hai fatto bene a sottoporlo a una riflessione seppur veloce, perché in realtà l'idea di banca universale, la banca che fa sia prestito a medio termine e a lungo termine e poi soprattutto la commissione tra banche commerciali e banche di investimento, esisteva nella legge bancaria, ad esempio italiana nel 1936. Dopodiché sulla spinta proprio della comunità europea, già alla fine degli anni 70 si è spinto verso la banca universale, cioè una banca che potesse svolgere tutte le attività. Questo però cosa fa sì? Che in realtà con i soldi che vengono raccolti col risparmio da parte di normali risparmiatori, spesso si possono finanziare attività che sono particolarmente rischiose e questo comporta ovviamente rischi di instabilità sistemica come quando avviene, come è avvenuto nella crisi finanziaria, le banche di investimento si espongono eccessivamente, perché ovviamente un investimento per essere appetibile deve essere molto remunerativo e il tasso di interesse che una banca promette per un investimento, altro non è che il prezzo dell'investimento e anche il valore del rischio di quell'investimento. Si è proposto infatti, ricordo una bellissima conferenza di un professore indiano, già il presidente della Montpellier in Society, di Pak Lalla, che aveva tenuto al centro in Audi di Torino, di cui tra l'altro io sono socio ordinario, in cui proponeva la separazione tra banche commerciali e banche di investimento e ovviamente a questa distinzione cosa dovrebbe seguire come corollario? Che le banche di investimento non possono essere salvate con i soldi dei contribuenti, quindi se vanno sull'orlo dalla banca rotta, devono essere lasciate fallire, il principio del to be and to fail non troverebbe cittadinanza in un sistema di questo tipo. Il vero problema qual è? Si vuole procedere verso questa riforma? In Inghilterra qualcuno l'ha avanzata l'opportunità di introdurre questa separazione tra i due modelli di banca. La Banca d'Italia, nel suo governatore di Anziovischio, che è un uomo di raffinatissima cultura economica, credo non sarebbe del tutto insensibile a una prospettiva di questo tipo. Vi è però una forte opposizione, la forte opposizione viene dalla Federal Reserve americana, la quale per ragioni credo anche di ammessa a forse eccessiva attività logistica, non è interessata a favorire una regolamentazione di questo tipo e quindi questo è un ostacolo, sicuramente è un intervento che potrebbe invece essere secondo me molto opportuno e molto difendibile anche da un punto di vista liberale. Certo, noi ci stiamo avviando alla conclusione e ci sono arrivati soltanto pochissimi minuti. Prima mi ha incuriosito quello che dicevi, il fatto che tu hai curato il rapporto sulla giustizia in Italia, a me salta chiaramente all'evidenza quale è proprio scandalo, le 180 mila prescrizioni annue sui processi, secondo te quali potrebbero essere i rimedi per ridurre in un breve tempo considerevolmente questo scandalo che poi è anche un'iniquità sociale perché generalmente chi si può permettere l'avvocato più bravo, il collegio difensivo più agguerrito, più tecnico, ha più speranza e possibilità di arrivare ad una prescrizione rispetto invece a chi queste possibilità non ce l'ha. Qui parliamo del processo penale, evidentemente se parliamo di queste cifre, di questi istituti e di queste conseguenze. Io ritengo che una rimeditazione seria di questo tema imporrebbe una riflessione che coinvolga il sistema delle impugnazioni, perché il sistema delle impugnazioni con tre gradi di giudizio, due di merito e uno di legittimità come è vigente oggi, era figlio della concezione, dell'accertamento della verità tipica del codice Rocco, cioè tipica di un modello processuale inquisitorio in cui la verità si deve accertare per approssimazioni successive e quindi i tre gradi si giustificavano in questa sede. Con il modello accusatorio sposato nel regime repubblicano e democratico nel 88-89 il codice Vassalli, il modello accusatorio postula in realtà un concetto di accertamento della verità completamente diverso, una verità di tipo stipulativo convenzionale, tant'è che infatti avrebbe dovuto trovare ben altro tipo di successo quella serie di riti alternativi, il cosiddetto patteggiamento, rito abbreviato, le formule quindi deflattive, in modo da poter consentire al processo nel senso dibattimentale quello più articolato, un ruolo quantitativamente minore. Questo avrebbe consentito di definire molti più procedimenti in via deflattiva e avrebbe riservato le energie che sono necessariamente scarse del sistema processuale a soli quei casi effettivamente dove un dibattimento poteva essere utile. Mentre oggi il dibattimento è diventato comunque la scelta elettiva di qualsiasi difensore e di qualsiasi imputato che si può permettere una difesa lunga e quindi anche costosa, perché? Perché con un processo che ha tre gradi di giudizio e con un dibattimento articolato e con il limite di risorse che c'è, la prescrizione è una possibilità non solo annelata ma facilmente perseguibile. Ecco, rimeditare l'istituto della prescrizione durante il corso del processo e rimeditare il sistema delle impugnazioni può essere sicuramente uno degli strumenti che consentirebbe di rendere meno premiante il dibattimento e di rivalutare quindi i riti alternativi. Un semplice dato, nei modelli accusatori come quello americano il ruolo del dibattimento che noi vediamo nei telefilm è un ruolo marginalissimo dal punto di vista quantitativo. La grossa parte dei procedimenti viene definita anche penali con formule deflative, con il patteggiamento, lo chiamano il plea bargaining, cioè con la definizione convenzionale anche dal capo di imputazione, mentre da noi è preponderante l'utilizzo e quindi l'abuso del processo penale dibattimentale con evidenti conseguenze sistemiche, perché poi ovviamente le risorse sono scarse con le garanzie che questo impone e ovviamente quindi è difficile arrivare a un accertamento definitivo della responsabilità. Chiarissimo, purtroppo il nostro tempo è finito, come al solito questi 30 minuti sono sempre stretti e finiscono sempre troppo presto. Penso che abbiamo offerto punti notevoli per i nostri web ascoltatori che ci ritroveranno su YouTube a poter furire di questa trasmissione ogni volta che vogliono sul nostro canale di Liberi TV. Andrea, io ti ringrazio, ti ringrazio davvero e nel salutarti voglio ricordare l'indirizzo web di Società Libera www.societalibera.org che vi dà appuntamento fra un paio di settimane con Vincenzo Lita oppure con altri ospiti come abbiamo fatto questa sera e appuntamento a questo importante convegno, la posizione per la libertà che si svolgerà a Roma il primo marzo. Andrea, grazie, un saluto. Grazie molti a voi per avermi ospitato, a presto e un saluto anche agli telespettatori. Grazie ai nostri web ascoltatori, grazie a Donato dalla regia alla quale cediamo la linea. Grazie a tutti.